A Tobbiana il divertimento a misura di bambino si prolunga rispetto a quanto accade nella maggior parte delle parrocchie della Diocesi. Sette settimane non stop di oratorio, in cui circa 50 animatori passano gran parte della loro giornata insieme a 80 bambini dai 5 ai 13 anni. Superata questa soglia anagrafica, infatti, si diventa aiuto animatori. Sono già 5 anni che faccio l'animatrice. Questa è la mia prima volta. Come ti stai trovando? Bene, è divertente, poi è bello aiutare i bambini anche. Cos'è che ti ha spinto a fare l'animatrice? Perché mi piace appunto stare con i bambini, è un'emozione tutte le volte che appunto le mattine ti vengono a chiamare oppure ti abbracciano. Vivere l'esperienza dell'oratorio sicuramente si fa un'esperienza sicuramente cristiana, dove appunto attraverso i messaggi che arrivano dal sussidio o da altre cose fa sì che comunque ogni giorno c'è un messaggio particolare e fa sì che appunto i ragazzi traggano insegnamento. E gli animatori hanno anche questo scopo di voler essere loro i protagonisti dell'animazione e quindi assumersi anche delle responsabilità ben precise e quindi è autoformativo. E' vero senso della parola. Io faccio parte del gruppo giovani della parrocchia di Sobbiana. E' bello perché diciamo non ci si ferma mai, la giornata è strapiena, si inizia alle otto e si finisce alle quattro e mezzo, sempre di corsa per organizzare giochi, laboratori e tutto quanto. E' proprio bello stare a contatto con ragazzi più giovani, vederli anche crescere nel corso degli anni. Mentre bambini e ragazzi vivono l'esperienza dell'oratorio al campo sportivo intitolato a Monsignor Danilo Aiazzi di Via Traversa Vicinale, fervono già i preparativi per le attività di settembre. Grazie alla disponibilità di animatori e responsabili, l'oratorio di Tobiana aprirà le porte anche nelle due settimane precedenti l'inizio della scuola. Le iscrizioni sono già aperte. Ti piace l'oratorio a Tobiana? Qual è il tuo gioco preferito? Quasi tutti. Schiaccia 3. Incontro tanti amici, è un bel luogo dove passare il tempo.